Tra le aziende protagoniste di Gente del Porto, iniziativa che si è tenuta nelle scorse settimane presso l'area Cantieri de Cesari a Cervia e che ha riunito le attività che offrono servizi nel Porto Cervese, c'è Arimar, della cui attività ci parla il titolare Francesco Collini. Il nome nasce 25 anni fa dall'idiatore, il nostro titolare signor Francisconi, che dedica il nome a una persona sua cara e associa questo nome al mare che è la nostra realtà, il nostro mercato dove sempre noi siamo specializzati e siamo focalizzati. Noi nasciamo come azienda di sicurezza nel mare, quindi produciamo zattere, l'azienda viene fondata proprio su questo prodotto che è la zattera di Porto, che poi si sviluppa anche nel mondo del professionale, quindi oggi siamo veramente specializzati a 360 gradi sul mondo zattera e sicurezza di bordo. Dopodiché allarghiamo i nostri orizzonti a tutti quelli che sono le necessità del diportista e del professionale, quindi abbiamo qui mostrato per il diporto tender, parabordi, giubini di salvataggio, VHF, tutto quello che sono le necessità vere e proprie del diportista. Arimar rappresenta il leader europeo nella produzione di zatteri, noi siamo ad oggi l'unica azienda europea a produrre e costruire interamente le zatteri di salvataggio in Italia e proprio qui a Cervia. Questo perché? Perché la manovalanza e la capacità costruttiva italiana sicuramente rappresentano il massimo in termini di sicurezza e quando ci affidiamo alla zattera non possiamo certamente sbagliare. Tantissime sono le persone che abbiamo salvato in questi anni, non ultimo le persone qui a Ravenna nello sfortunato evento di quest'anno, di questo dicembre, se non sbaglio. Sicurezza quindi, il prodotto 100% made in Italy, non lasciamo nulla al caso in queste cose perché non possiamo sbagliare, non c'è una seconda via di uscita. L'unico modo quando attivo la zattera è che la zattera si gonfi e funzioni al 100%. Noi siamo ubicati a Montaletto di Cervia, a pochi chilometri dal porto, la sede è rimasta sempre quella storica, da 25 anni in questa parte, crediamo nelle realtà locali, crediamo in tutto quello che è il mondo creato attorno a noi, attorno alle nostre, per provare i nostri bacini e tutto quanto, quindi siamo benissimi a Cervia, non abbiamo intenzione assolutamente di spostarci e siamo contentissimi di essere qui. Gente del porto Cervia. Gente del porto Cervia, tutti i nostri dipendenti sono di Cervia, quindi Cervia è un po' anche dentro Arimar. Grazie. Grazie.